Benvenuti a Mosca. Guardate che posto! Uno, due, tre! Non avevamo mai visto niente del genere. È impossibile stabilire un contatto visibile. Ingenti le perdite di vita umane. Non si tratta solo di Mosca. New York, Parigi, Tokyo hanno segnalato alieni invisibili. Sono venuti qui con uno scopo. Loro possono vederci. Ma noi non possiamo vedere loro. Che cosa vogliono? Energia, elettricità. Oh mio Dio! L'elettricità li rende visibili. Dispositivi di segnalazione. Via, via! Le rispediremo all'inferno. Uccidilo! No! John!